Ciao grande pubblico! Allora, Tina, Maria Antonia, Maria, come tu voglia essere chiamata, auguri, questo è buon compleanno, buon compleanno! Grazie! Ora riprendo io, eh madonna mia che deficienzi! Dopo 9 novembre che era, vabbè, adesso siamo il 22 dicembre! 22 dicembre, bene sì! Apro il mio regalo di compleanno! Oh oh! Si è portato solo! È perché lo scotch non teneva! Te giuro, non teneva lo scotch! Si è portato da su, si è portato! Oh! Oddio, ci sono uguali! Ha portato e ha detto, compra la borsa più grossa! Io ho detto! Che vuole? Cioè, il signore ci ha guardato male! E ha detto, compra la borsa più grossa! Oh vedi come ho fatto subito! Ma sta! Che carino! Ma quanto è bello! Saremo uguale, insomma! Eh no, insomma! Bello, mi piace! Te gusta? Oddio, che spavento! Ma che è la signora o il signore? Io mica lo riconosco da qua! Ma andando col cane! Ah, bello! Bello, bello! Guarda qua, eh! Guarda, guarda, guarda! Vabbè, soltanto è che è più grande questa cosa! Eh ma... Sì! Ma cosa vuoi? Allora... Allora, mi piego pure io! Questa cosa è molto grande! Ah, pure questo! Non l'avevo visto! Eh, vedi! È importante! Allora, le ore per legare... Oh, mi so impicare! No, così! Ecco! Ecco, mo ti legalo! Grazie! Dai, per me! Ah, ti dovevo tirare fuori quest'altro! Quindi ora le continuo a riprendere tu! Sì! Eccolo! 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 Un po' più piccolino! Ma no! Tina! Maria Antonia! Maria! Come tu? Vabbè, tu che pari? Buon Natale! Tanti auguri di Buon Natale! Grazie! Grazie! Madonna mia! Grazie! Che video! Questo fa fino a su YouTube! Tu direi ai tuoi amici! Guardami, guardami! Diventerò famosa! Questo pure che è... Wow! Chiudai! Ho visto una collana! No, è una collana? Ah, sì! Eccolo! Abbiamo festeggiato la... Abbiamo festeggiato... Abbiamo festeggiato... Abbiamo festeggiato sia... Vabbè, saluta! Tutto, tutto! Ciao!